Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Resident Evil 4 ci eravamo lasciati in questa posizione e adesso per tutto modo proseguiamo io intanto sono ritornato indietro e mi sono comprato la Black Tail e ho venduto il Pendicator migliore arma quindi andiamo avanti con il Black Tail ok sistemiamoci un po' l'inventario carichiamo intanto sentite in sottofondo che ci sono gli allegri membri della setta dell'Illuminados ah quel cabron è il cabron ok questo è morto andiamo subito qui allora visto che tu sei singolo proviamo subito la nostra nuova amichetta vediamo ci ha dato qualche cosa no giustamente allora se sono fortunato io sono anche bravo a te ti blocco che razza di maledetta a te a tutti quelli della razza tua ma non scappare no vabbè no vabbè c'è una cosa incredibile con qualche fucile che vuoi tu? ricarichiamo a faccia guarda qui dietro sta quel cerebro leso ma non è visto che c'era un ostacolo davanti ai tuoi piedacci allora adesso la vertuccia se ne scapperà quando noi saltiamo giù si aprirà questo muro è giustamente però quindi noi dobbiamo essere veloci a spadarli altrimenti si 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 dai dai no maledetto perchè c'è questo porco che cavolo ridi eh che cavolo ridi ma io non lo so non c'è niente da ridere e adesso quello lo dobbiamo inseguire intanto freghiamoci un po' di mancia vediamo se lo riusciamo a fermare penso proprio ma maledetto fucile maledetto eh vabbè dobbiamo usare la forza wow è fortissimo questa pistola ci farà una bella sorpresina eh infatti scatta scatta stupido Leon si vabbè dai vabbè si vabbè dai io ho bucherellato vabbè lasciamo stare vabbè non me lo ricordavo così eh no eh porca mi sei ma così colpo ti devo dare ma possibile oh che per prendere una chiave devo svuotare tutte le armi la prossima volta collabora questa maledetta chiave serve a lo scopriremo tra poco saliamo di nuovo sopra saliamo di nuovo sopra scendiamo da qui scendiamo da qui scusate eh però io non resisto ok ok è chiusa le dobbiamo aprire con quella benedetta chiave ah ok qui c'è un enigma intanto prendiamoci questo spinello ah no una lacrima viola ok ok il sacrificio di sei vite porterà nuova luce allora in pratica questi quadri sono quattro e dobbiamo girarli in modo tale che ci siano sei figure quindi basta così guarda che è male eeeh perché la devo fare adesso questa figura ok ci siamo what a blessing surprise but I'm afraid it's ashy not you Mr. Kennedy if you don't need me then get off my back old man did you say old man Mr. Kennedy it might come as a surprise but I'm only 20 years old so you're just like all the others the puppet of the parasites surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados the parasites the splagas are slaves to my will I have absolute control well I really don't give a damn rain or shine you're going down you're going down give me the little American friend voi non avete capito niente ho da sprecare qualche piccola granata oh cazzo se non c'era quella cosa vabbè non vi preoccupate non vi preoccupate oh come prendiamo il nostro fucile e la sciechina sciechina uffa uffa Beh, mi viene stronzo. Dov'è che scappi? Stai arrivando qui? Brutta Plagas! Vieni, vieni. Ti ha ucciso? C'è qualcun altro? Eeeh! Oh. Le avete finite. Finita la musichetta siete finite anche voi. Molto molto bene. Siete davvero insistenti, miei cari ragazzi. Ma? Vieni. 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 Con il quadro di quest'è. 水i. OK! Abbiamo svegliato le teste di... le teste d'oro! Allora va, stiamo andando così Io poi voglio capire quelli due da dove sono usciti Ok, abbiamo la decorazione con capra E questa è la prima delle tre Però qui abbiamo svegliato questi baldigiovani Giovani? No? Ok, allora gli hanno tolto In questa remastered hanno tolto un po' di cose Questo rumore di corvi Andiamo qui Cosa mandare? E qui? Corbacci Mmm, vabbè Ok Quanto odio questa parte Dobbiamo fare il giardino Beh, la facciamo subito Prima la facciamo e prima ci spicciamo Non c'è sempre questo che mi chiama Cosa 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 Ci ho fatto uno spoiler Va bene, va bene Carichiamo Questo è un giardino piccolissimo E quello ci vuol far credere che uno si può perdere in questo giardino Vediamo i nostri amici 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 Senti, io vado diretto con questa Anche se questa non è fortissima Però Buttiamolo giù come se non ci fosse un motivo Ehi Eh, non ci credo Ma dobbiamo stare con il sottofondo di questo porco che russa Buongiorno 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 Allora Buongiorno Alfor non so che sei felice di vedermi, ma io di più e tu? sei in due sta eh vabbè se siete in due ho bisogno di reinforcing oh oh siete in tre oh non si sente più quel fastidioso quindi possiamo riprendere la nostra via oh mamma mia però salazar ma questi non dovevano essere brutti, tosti no perché io anche con le armi babisce le sto, li sto tenendo a bada eh oh senti non mi sto perdendo eh boh qui dentro ok qui dentro ecco le voilà allora eh non me lo ricordavo così difficile ok ovviamente abbiamo preso un pezzo un pezzo rarissimo e quindi ora sbucheranno altri ehi cos'è ehi ma non avete proprio non avete proprio nessuna pietà ancora curati pagliaccio c'è pure è morto? no e ora? si ultime set le set servono ad uccidere le set dettiche dobbiamo andare qui dobbiamo andare qui altre munizie uffa mamma mia però questi hanno rotto le scan si hanno rotte eh ok dobbiamo salire fino a qui prendere il secondo pezzo venire qui attaccare le due i due pezzi no ok ehi voilà entriamo per vedere put your hands where i can see them sorry but following a lady's lead just isn't my style put them up now bit of advice try using knives next time works better for close encounters leon long time no see ada so it is true true? about what? you working with Wesker i see you've been doing your homework why ada? what's it to you? why are you here? why'd you show up like this? huh see you around Ada! e finisce così quest'ultimo episodio di Resident Evil 4 noi ci vediamo nella prossima puntata sempre qui sempre a Rockims Channel ciao